Alexevna con un milione di rose rosse! Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. Lui amava una diva, innamorata dei fiori, per dichiararsi in amore, lui ha venduto la casa, tutti i suoi quadri e le tele. La sua vita trasformerà in fiori, un milione, un milione, un milione di rose rosse, dalla finestra, la finestra, la finestra, vedi? E' innamorato, innamorato, innamorato veramente, per te la sua vita trasformerà in fiori, un milione, un milione, un milione di rose rosse, diciamo anche il nome di questa tua bravissima cantante. Cantante, mia amica, Irena Di Locarno. Ah, eccola qua. Lei è una cantante lirica che ha voluto fare insieme a me questo brano, cambiamolo un po', perché a Canal Italia già sono stata una volta, io ho cantato, a chi mi si ricorda, un milione di rose rosse, però da sola. Ok, questa sera un'altra versione. Poi, chi mi segue lo sa che Milione di rose rosse è una storia vera, è successa nel 1905, chi vuole sapere sull'internet c'è tutto, tutto, tutto. Comunque questo pittore ha veramente venduto tutto, ha riempito la piazza di fiori per l'attrice. Ci hai messo un po' di curiosità, andremo sicuramente a scoprire. Andremo a curiosare su internet. Un grande applauso, a dopo. Grazie, grazie. Grazie ragazze, grazie mille. E allora, adesso...